Riunione urgente questa mattina a Pescara in prefettura per parlare del problema dragaggio del porto di Pescara alla luce degli ultimi insabbiamenti. Riunione presieduta dal prefetto Gerardina Basilicata a cui hanno preso parte le varie entità interessate alla risoluzione del problema. Il problema è presente anche il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli che ha detto che ci saranno interventi urgenti già entro dieci giorni per risolvere almeno nell'immediato il problema regione che dunque non si tira indietro e che ha già stanziato 31 milioni di euro. Vediamo dunque le parole del presidente Giovanni Lolli. Oggi abbiamo già tenuto prima di venire qui una riunione in regione nel quale abbiamo dato un incarico all'ingegnere il quale sta già facendo il progetto sulla canaletta per l'approdo di estendere la sua attività e di fare rapidissimamente il progetto per la individuazione di questo materiale che si è diciamo accumulato. Contemporaneamente bisognerà fare come la legge prevede la verifica sulle eventuali residui bellici che ci dovessero essere il tutto fatto in maniera speditiva. Questo materiale sarà pronto entro la fine di questa settimana. Lo consegneremo all'autorità portuale la quale autorità portuale martedì mattina ci presenterà in conferenza di servizi il progetto di dragaggio. Stiamo parlando di andare sotto soglia e quindi non è necessario fare una gara che comporterebbe tempi più lunghi e quindi martedì stesso verrà incaricata una società, un'azienda, avendo la scelta attraverso le aziende previste che fanno questa attività. La draga sta già nel porto canale e quindi a quel punto la dimensione di questo materiale che dovrebbe essere limitata verrà dragata nel giro dei prossimi giorni. Il tutto deve durare dieci giorni. Qualora dovessero intervenire, cosa purtroppo sempre possibile, qualche eventuale difficoltà che allungassi i tempi, ci siamo presi l'impegno con le aziende di comunicarglielo immediatamente. Poi però l'obiettivo, Presidente Loli, è quello di un intervento strutturale sul porto di Pescara? No, gli obiettivi sono tanti, andiamo con ordine. Adesso sistemiamo questo problema. Sistemando questo problema abbiamo deciso di fare contemporaneamente una gara, siccome le risorse ci sono, per fare un dragaggio sistematico, continuo, contemporaneamente. Io ho scritto una lettera a Toninelli, al Ministro, il Prefetto, sua eccellenza, il Prefetto, si è mossa a sua volta perché il Provedere dell'Opera Pubblica svuoti questa vasca che abbiamo e che è colma. Diventa uno sfogo dove mettere il materiale. E infine, che è il problema più vero, dare più rapidamente corso all'attuazione dei lavori, abbiamo 31 milioni già investiti, per fare finalmente un porto. Perché oggi non abbiamo un porto, questa è la verità. Marineria pescarese preoccupata per quanto accaduto nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sempre più difficile entrare ed uscire dal porto canale. Queste le parole del rappresentante della marineria pescarese, Francesco Scordella. Il pensiero della marineria è sempre lo stesso, che purtroppo siamo sfiniti perché stiamo parlando ormai da 10 anni, sempre dello stesso problema, anzi sta peggiorando, sempre di più. Purtroppo questi tabli li dobbiamo fare perché dobbiamo portare avanti le nostre attività e il nostro lavoro è questo. Quindi stiamo cercando insieme a tutti i soggetti, quindi capteneria, prefettura, regione, di venirne a capo almeno per questo momento di emergenza, perché questa è un'emergenza, non è che risolve il problema. Quindi speriamo che in futuro, più presto, ci daranno questo porto per lavorare. Il Presidente Lolli ha detto che la prossima settimana dovrebbero partire però dei lavori per quanto riguarda il dragaglio. Abbiamo detto una data, massimo 10 giorni che ci hanno promesso che faranno questa pulizia, però aspettiamo con fiducia questi 10 giorni perché speriamo che non escono dei problemi. Farà la sua parte anche la direzione marittima Bruzzo e Molise, lo ha detto il comandante De Carolis, che ai nostri microfoni è entrato nello specifico degli interventi di dragaggio. L'emergenza che mette un po' a repentaglio quella che è la sicurezza dei pescarecci un po' più grandi, l'emergenza che dobbiamo superare, ci siamo dati una data, entro i prossimi 10 giorni. Quindi nei prossimi 10 giorni dovremmo cercare di rimuovere quella sabbia che si è accumulata subito dopo la furicida dei moli guardiani e quindi ridare serenità ai pescatori. Di quanto ammonterebbe l'intervento che dovrà essere fatto nei prossimi 10 giorni? Metri cubi? Metri cubi, perfetto. Non si tratta di grosse quantità. Stimo intorno ai 5.000 metri cubi, giusto per riprendere il passo di accesso. Il problema è che dobbiamo essere successivamente pronti a far fronte a situazioni analoghe che nel corso dell'inverno si potrebbero ripresentare.